E' accaduto all'improvviso, tra le 19.30 e le 20 di ieri sera, mentre la scogliera era battuta dai venti forti delle recenti piogge. D'un tratto ha ceduto una gran parte del marciapiede in via Litorani a Torre del Greco, aprendo una considerevole e profonda voragine. Una tragedia sfiorata, nessun coinvolto per fortuna nel tratto di strada franato. Sarebbe bastato soltanto un momento diverso, ovvero una diversa condizione climatica, perché l'accaduto si risolvesse in tutt'altro modo, con tutt'altro epilogo. La dinamica è risultata chiara sin da subito a quanti sopraggiunti con prontezza sul posto, vigili del fuoco, agenti di polizia e polizia municipale, e cioè l'azione erosiva del mare sottostante avrebbe nel tempo asportato progressivamente, nelle zone dove le onde battono, il terreno, creando caverne vuote, inadeguate a reggere la sede del sovrastante tratto di marciapiede. Transennata immediatamente l'aria, è stata interdetta anche la circolazione veicolare e pedonale su entrambe le corsie del tratto di strada adiacenti al lavoraggio. Un dramma sfiorato, il secondo in pochi mesi, che impone una riflessione seria ed attenta sulla necessità di porre in essere opere oggi non più rinviabili.